Gestionale e agenzie immobiliari, ormai tu sei nel campo da 20 anni, sei uno dei gestionali storici che preside il territorio italiano, sei anche uno dei pochi rimasto indipendente, oggi abbiamo visto acquisizioni di grandi fondi, grandi società, fusioni, accorpamenti di software e siti web, secondo te perché questo può essere un valore per l'agente immobiliare, l'indipendenza di agenzie? Guarda, allora grazie della domanda perché effettivamente diciamo non molto spesso mi viene posta, però c'è un significato profondo anche dietro alle dinamiche che poi ci hanno portato a scegliere di rimanere indipendenti, che è una scelta, non è che sia meglio o peggio di essere diciamo di avere un gruppo alle spalle o essere acquisiti da grandi società. Diciamo che nell'ottica della progettualità di quello che noi siamo intenzionati a fare anche nel futuro, abbiamo capito che ce la possiamo fare benissimo anche con le nostre gambe ed è secondo me un valore aggiunto nella misura in cui c'è un potere decisionale, chiamiamolo così, di poter seguire veramente quello che la nostra clientela dice direttamente a noi senza passare magari eventualmente da filtri che potrebbero limitare insomma la produttività da questo punto di vista. Per cui diciamo non mi sento di dire che chi ha fatto una scelta diversa abbia sbagliato, è semplicemente un'impostazione diversa che ha voluto dare al proprio business o al sviluppo, al futuro della propria azienda. Noi abbiamo scelto di rimanere indipendenti con molto orgoglio, con molto sforzo anche devo dire perché chiaramente è una sfida molto importante, ma i risultati stanno arrivando perché comunque c'è stata un'attestazione comunque anche di stima da parte della platea degli agenti immobiliari che hanno visto anche questa come una scelta coraggiosa diciamo, però molto affine a tutto ciò che è il mondo che noi immaginiamo nel settore immobiliare, nella tecnologia del settore immobiliare. Diciamo che rimanere autonomi e indipendenti in un settore dove stanno entrando comunque dei player molto grandi, quindi interessi con numeri e cifre capitali da investire anche molto importanti, è una scelta sicuramente coraggiosa e va premiata e penso che i vostri clienti apprezzino ecco questo aspetto. Sì, con tutto che comunque noi storicamente collaboriamo con molti partner, di conseguenza non ci manca la possibilità di avere un approccio anche di collaborazione con molti dei partner che hanno anche diciamo così proposto un'acquisizione insomma nei nostri confronti. Noi preferiamo rimanere indipendenti però continuare a collaborare come abbiamo sempre fatto con, noi collaboriamo anche con i nostri concorrenti, quindi figuriamoci noi siamo proprio aperti alla collaborazione. Bene, collaborazione insomma che è un aspetto che gli agenti immobiliari sicuramente dovrebbero prendere come esempio nello sviluppo del business. Il gestionale per le agenzie immobiliari, voi cosa fate nel concreto quotidianamente per supportare l'attività dell'agente immobiliare? Com'è che migliorate il lavoro dell'agente immobiliare? Guarda, sono per la precisione 23 gli anni che siamo diciamo online, chiamiamo così comunque sul mercato per quanto riguarda diciamo i gestionali immobiliari. Noi abbiamo una missione da sempre, da quando abbiamo iniziato che è quella di ascoltare i nostri clienti e sulla base del, che può essere diciamo una risposta abbastanza scontata, però è così che si fa, cioè nel momento in cui c'è l'esigenza, si crea l'esigenza, noi cerchiamo di andare dietro al mercato e quindi adattando, ovviamente stiamo parlando di Algem che oggi non è Algem di quello di vent'anni fa chiaramente, no? Un po' lo sviluppo della tecnologia, un po' anche le metodologie di lavoro che sono cambiate fino a un certo punto diciamo, non tantissimo, però ci hanno visto sempre molto attenti all'aspetto diciamo dello sviluppo di procedure comunque gestionali per favorire il lavoro. Ricordiamoci sempre che un'applicazione come Algem, comunque un software gestionale, deve essere uno strumento che aiuta il lavoro, se non se lo complica diventa veramente, ecco in quest'ottica qua noi siamo sì sempre molto aperti alla tecnologia, chiaramente noi nasciamo tecnologici per cui insomma siamo aperti alla tecnologia, però con un occhio sempre alla praticità, l'agente immobiliare alla fine deve fare l'agente immobiliare, per cui questa è la cosa più importante, quindi noi andiamo dietro a questo filone di pensiero. Certo, allora il gestionale e CRM, esiste una differenza qual è e come si utilizzano? Allora ci vorrebbe uno speech di un paio d'ore qua per parlarne, però allora diciamo che è una questione anche di termini, il gestionale forse è un termine un po' più antico, CRM è quello un po' più di moda, però in realtà il CRM è una parte del gestionale, cioè noi tutti gestionali nati tanti anni fa, siamo nati immobili centrici, cioè sulla gestione proprio dell'immobile, nel tempo poi si è sviluppato molto ovviamente l'attenzione anche verso il cliente acquirente, la parte che acquista, per cui ci siamo evoluti nello sviluppo di procedure che favorissero le parti di marketing, la relazione con il CRM, alla fine vuol dire gestione della relazione col cliente, che è una parte della gestione dell'agenzia, quindi è una parte del gestionale. Agim oggi contiene sia una parte di CRM, quindi è evoluto diciamo secondo una certa diciamo tendenza di modernità tecnologica, ma sempre con l'occhio come ho detto prima a quelle che sono le possibilità e le esigenze dell'agente immobiliare, quindi la pratica, e poi tutta la parte gestionale che ancora riguarda la gestione dell'annuncio, quindi l'inserimento degli immobili, la pubblicazione sui portali, eccetera, che rimane ovviamente tutta una parte di gestione vera e propria, quindi diciamo fondamentalmente la differenza è quella, quindi diciamo il CRM è una parte del gestionale insomma. L'importanza di non gestire solo immobili, l'abbiamo visto anche prima nella plenaria, ma di creare una relazione anche con i clienti, non solo venditori, ma anche acquirenti che un domani possono diventare venditori, va sicuramente organizzata, la gente immobiliare per definizione incontra molte persone nella propria attività, però uno dei difetti, parlo da agente immobiliare, è che questi incontri sono one shot e poi si perde la continuità di relazione, quindi il gestionale può, il CRM può aiutare. Come ti dicevo ci vorrebbero un paio d'ore, perché dovremmo un pochettino parlare anche dell'aspetto proprio pratico dell'utilizzo dello strumento, che si abbina ovviamente a quelle che sono le esigenze dell'agente immobiliare. Hai detto bene, cioè nell'archivio di un agente immobiliare ci sono migliaia di nominativi, molto spesso però quelli che si lavorano effettivamente sono gli ultimi venti che mi ricordo, sono gli ultimi venti a cui ho telefonato o gli ultimi cinquanta che siano. Gli strumenti tecnologici, ovviamente il gestionale è nato per quello, il gestionale contenente un CRM è nato per quello, permettono di tenere una relazione col cliente, cioè se noi ci pensiamo una delle principali problematiche per cui la gente comune perde un po' la sfiducia nei confronti del mondo degli agenti immobiliari e anche il fatto della semplice affermazione non mi hanno più chiamato, quindi non ho più saputo, sono spariti, ecco, usando gli strumenti in maniera intelligente si può evitare perché anche una fredda, dico fredda perché non c'è il rapporto personale, però può servire a tenere quel contatto, quella goccina che ogni tanto ti fa sentire che comunque io sono ancora presente nei tuoi confronti. Lo strumento è, diciamo, adatto, strumento gestionale ovviamente, è adatto anche a questo tipo di attività, no? Lavora in background, è anche adatto a ovviamente a rilevare quelle che sono le opportunità che possono presentarsi in base a determinate condizioni, pensiamo all'incroci tra richieste e offerte, no? Che possono essere fatti anche in automatico. Quindi, come dicevo, ci vorrebbe tanto tempo per sciorinare un po' tutta una serie di feature che le applicazioni come Agim hanno e che possono entrare in supporto assoluto dell'agente immobiliare, certamente. Ecco, Agim adesso come si posiziona? Più come gestionale, più come CRM? E allora... O stanno sviluppando di pari passo, diciamo la cosa? Allora, diciamo come dicevo prima, siamo nati più gestionali, no? Però poi gioco forza ci siamo evoluti, quindi nel tempo, diciamo, le funzionalità CRM tra l'altro adattate, ecco, questa è una differenza importante rispetto ai CRM puri. Ci sono tanti software in giro, applicazioni, che sono proprio CRM puri, cioè sono dedicati proprio alla cura della relazione col cliente, no? Che hanno delle funzionalità incredibili, funnel, insomma, tante cose che sono molto orientate a quel tipo di attività. Però bisogna anche tener conto che nel mondo degli agenti immobiliari c'è una certa operatività che va rispettata, intendo dire. L'agente immobiliare non ha forse la capacità, nella grande maggioranza dei casi, la capacità più il tempo che la capacità di creare funnel, di creare newsletter, campagne di marketing, studi di piani di comunicazione, eccetera, che sono un pochettino cose importanti, per carità, però in molti casi l'agente immobiliare deve fare l'agente immobiliare, no? Quindi non può, diciamo, disperdere le energie. Ecco che uno strumento come Agim è adattato a quelle che sono le esigenze di operatività quotidiana, per cui ti do degli strumenti, ma non troppo elaborati, perché affinché tu possa fare attività di marketing, assolutamente, ma con il giusto contesto dell'operatività di un agente immobiliare. Oggi sul mercato siamo, diciamo, posizionati bene, perché dopo 23 anni, un guai se non lo fossimo, insomma. Però ecco, siamo, diciamo, conosciuti molto per essere molto equilibrati su quella che è, diciamo, l'attività dell'agente immobiliare, quindi non troppo tecnologici, ma neanche ovviamente troppo retrogradi, insomma. Certo. Un'ultima domanda, come diceva prima Deborah Rosciani sul palco, il petrolio di questa nuova epoca economica, sono appunto i dati. I dati che quindi, organizzati, inseriti all'interno di un gestionale come un CRM, creano una famosa banca dati che spesso gli agenti immobiliari non sfruttano. Secondo te è una risorsa che vale la pena di sfruttare con i corretti strumenti? È una risorsa rinnovabile? Come può essere un valore aggiunto per l'agente immobiliare a sfruttare questa cosa? È una grandissima risorsa. Noi abbiamo dei clienti che hanno in banca dati anche 10.000, 15.000 nominativi. No, magari anche di gente che hanno servito 10 anni fa, magari però rimane lì. Ora, diciamo, avere veramente un tesoro del genere significa avere 10-15.000 opportunità che possono diventare un giorno veramente delle opportunità concrete. Ecco perché è importante coltivarle e utilizzarle questi dati. Ma al di là di tutto ci sono anche le attività di analisi, qua parliamo magari di agenzie un po' più strutturate, per cui hanno magari tanti collaboratori che possono, diciamo, che appunto operano all'interno dell'agenzia. il dato, se inserito bene ovviamente, può essere una fonte preziosa per l'imprenditore, per l'agente immobiliare che conduce l'impresa, per capire un attimino dove andare a intervenire. Ci sono le richieste che se sono inserite bene possono dare una miriade di informazioni. E' anche uno storico, uno storico di come cambiano le tendenze, diciamo, delle richieste di chi cerca casa, che per carità ci sono studi e agenzie che fanno studi di settore che ci danno già tante informazioni, ma io queste informazioni ce le ho anche in casa. E sono i dati che sono inseriti all'interno di un sistema come Agim. E' un tesoro assolutamente. Diciamo che l'importante è non solo stimolare queste banche dati con offerte immobiliari o con iniziative, diciamo, volte alla vendita, ma creare appunto una relazione con il cliente, con la propria banca dati, oltre a sfruttare le informazioni che si possono ricavare anche per orientare il proprio business. Perché comunque sapere che tipologia prevalente di richieste ho, cosa cercano i miei clienti, mi può dire bene, focalizziamoci sull'acquisizione di quel tipo di prodotto, perché la mia clientela prevalente vuole quello. Ti dico anche un'altra cosa, se ho ancora un minuto di tempo. Dalla regia non mi stanno minacciando. Allora, il Covid, diciamo l'esperienza del lockdown in particolare, ci ha insegnato, a parte che siamo diventati tutti i tecnologici, abbiamo imparato a fare le riunioni online, grazie, finalmente, insomma, uno dei pochissimi aspetti positivi della pandemia. Però a parte gli scherzi, noi abbiamo registrato dei casi concreti, in questo senso qua. Chi non aveva una gestione del dato fatta come si deve, è rimasto totalmente impreparato durante la fase di lockdown, perché non sapeva come comunicare in una maniera diversa da una telefonata, oppure di un appuntamento in presenza, che non si poteva fare. Chi aveva una gestione del dato più oculata, ma non ti dico cose da chissà che cosa, insomma, una gestione del dato un po' più informatica, un'attenzione, ha potuto coltivare il rapporto con la clientela in quei tre mesi in cui le agenzie immobiliari sono rimaste assolutamente fermi. Abbiamo avuto dei casi di clienti, è stato meraviglioso questa cosa qua, hanno fatto anche degli open house, quindi delle presentazioni di immobili, su Facebook, fatte dal proprietario, che ovviamente deve essere un proprietario anche un po' predisposto alla tecnologia, che ha presentato l'immobile, non si poteva andare di persona, quindi dall'agenzia si sono organizzati con il proprietario, ha fatto un collegamento con una webcam normalissima, hanno però coinvolto tutti i clienti che avevano in banca dati per dire guardate che cosa vi proponiamo oggi, hanno fatto un open house su Facebook e c'erano centinaia di persone collegate che sono arrivate grazie al fatto che avendole in banca dati, strutturate, sono state sollecitate nella giusta maniera. Sono esempi diciamo abbastanza estremi, nel senso che ovviamente la media non è così, però è un esempio di gestione anche delle informazioni che possono essere utili poi alla fine all'attività anche in casi insomma particolari come quelli del lockdown. Bene, ringraziamo Paolo per il suo contributo.